Fiori. Quelli che hanno espresso gioia per una nascita. Fiori per celebrare un anniversario, per manifestare l'amore timido e inespresso. Fiori per una ricorrenza istituzionale, aziendale, familiare, scolastica. Fiori accattivanti per chiedere perdono, per far pace. Fiori per i morti. Tutti i fiori. Esaurita la loro funzione sincera, dovuta, fortemente voluta, amorevole, interessata, ambigua e persino ruffiana. Tutti, eccetto rarissimi, che si conserveranno fra le pagine di un libro, tutti andranno al macero. Gettati per essere smaltiti o lasciati distrattamente ove capita. Vivono il declino. Stazonati, afflosciati con i primi segni di corruzione prossimi al decadimento, conservano tutti una residua dignitosa bellezza che li fece ammirare. Alcuni potrebbero ancora dar voce ad un sentimento. Verrebbe voglia di salvarli, ritardando ancora un poco la decomposizione, fermando la loro residua contaminata bellezza in dipinti dedicati. Per una mostra sognata. Grazie a tutti.